Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo nello speciale 20.000 iscritti con una mia amica e andremo a fare un po' di gara accelera allora ma con calma con calma perfetto allora allora accelera facciamo una cosa stiamo facendo lo specialmente i miei iscritti deciso così al momento perché non è che sono programma ok ok e lo spiegati tasto che stai facendo allora allora calma calma ce la possiamo fare ok allora ok ora puoi accelerare diventare nel tubo stai zitto sono una donna perfetto allora cerca di ok mi sto scordato che questo dovevo dire comunque sta giocando lei come avete visto perché se facciamo un paio di video insieme ma io ora sto andando sempre così a marci tu non è che vai con le ruote vai aspetta no non ce l'ho aspetta no non ce l'ho fatta ok mi metto tipo l'effetto di luce l'insu aspetta che vado a prenderla questa da mangiare dai 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 che ci siamo aspetta l'indietro ok vai perfetto vai così che ti devi allargare no non mi importa ma era quello non lo so è passata dentro dai dai che ce l'ha fatto no ok aspetta no no si sta andando bene sta andando bene perché c'è il ponte che passa dentro vabbè no ma no che c***o è scantato ok perfetto il ciuffo il ciuffo il ciuffo ma per questo video per questo video 500 mi piace voglio ma sono macchiata non sei macchiata una ragazza quando gioca a gta pensa al trucco non al gioco senti allora stavo dicendo che a 500 mi piace facciamo un altro video insieme cioè li registriamo moco e li mettiamo se non arriviamo a 500 non lo metto quindi dirò anche tu dobbiamo arrivare a 500 mi piace dobbiamo arrivare a 500 mi piace dobbiamo arrivare a 500 mi piace sì sedicesima una postazione 16 15 16 15 allora questa è una gara stante tu sai che sono le gare stante no è in pratica una gara dove stai nei tubi tipo così devi girare poi tipo sci fuori poi rientri nei tubi devi girare così è la cosa difficile che si scivola dai ti stai riemozionando ti stai riemozionando che si è emozionata perfetto riesco a vedere casa mia infatti aspetta marci indietro gra ma non c'è ragazzi veramente sto prendendo la patente comunque infatti dal vivo è la prova nel gioco poi c'è le guide le file qua nel gioco vero sì ok stiamo andando bene aspetta ti stai emozionando quando fa questa guida si emoziona perché giustamente guida una macchina del genere dai e a modi non la così prima si tutta verso indietro così perfetto ok si è sistemata perfetto attenzione che modi andare giù attenzione attenzione sto arrivando perfetto perfetto ti stai emozionando ancora ti piace emozionarti ho visto ti piace emozionarti come emozionarsi in una gara tutorial non iniziare a dire quanto cazzo finisce il tubo si infatti è un tubo che comunque ti fa vedere tutti i colori visto che chi è dal tonico però sarebbe in culo perché quante emozioni in questa gara ecco ecco allora vai a destra non sbattere vai a destra ti stavo guardando fine gara tra 15 secondi ma io ce la posso fare vai a destra non sbattere ok 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 vai dritta dritta madonna che culo minchia eravamo quasi finito eravamo eravamo avevamo quasi finito non siamo non perché sto parlando arabo non siamo arrivati perché ci siamo emozionati ma nella prossima gara daremo dare il tuo meglio vero scusa 420 dollari se quanti ne ho 76 milioni a posto comunque ora ci becchiamo nella prossima gara dove si impegnerà e non si emozionerà lo devi promettere fallo lo faccio per voi se si parli così non si sente niente lo prometto ragazzi siamo nella seconda gara sempre con serena che sta per ridere e abbiamo la fiat 500 ovviamente se volete comprare le fiat andate a concessionare vabbè comunque 3 2 1 perfetto siamo partiti mi vorrò che cazzo di carico devo andare qua dentro devo andare qua dentro aspetta allora vai qua dentro mi hanno insegnato di fare la macchia vai 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 lezioni come guida ok vai infilati da dentro poi poi non so vai infilati vai 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 non fare non fare niente non muovere ma accelera e basta accelera ok va accelera cerco dire ad accelerare e mettiti perfetto dai queste sono le gare automatiche tu non fai niente ti va no se non è colpa mia non preoccupare non ce la fai questa è la forza di gravidanza aspetta ma devo ritornare di gravidanza di gravidanza di gravidanza di gravidanza di gravidanza di gravidanza comunque qualcosa da capo allora mi facciamo la gusa quando entri qua dentro no ma aspetta aspetta no si ma ce la fai devi prendere più velocità andiamo giù nel paese allora va cosa aspetta in qualsiasi momento durante la gara allora devi fare il triangolo fin quando non non esplodi ok allora come non dovevi cadere ma non è colpa tua vai accelera di brutto chi perfetto accelera lo so chiaramente una 500 devi capire niente qua lo devi fare in pratica tutto di botta in pratica capito se no non ci riusciamo no e si perché per fare quel punto per fare quel punto no ok perfetto posso spiegare tutto non ce la fai se vai lenta andiamo giù di nuovo triangolo allora allora vai ce la puoi fare siamo tutti con te curry forest le pesa un tantino non so se ce la fai adesso vai adesso di non fare niente che devi fare la rotta la robiola ma io non c'è è un casino perché qua voglio dire bisogna prendere tutto bene puoi andare lì e andare sopra se partendo da qua non ci riusciremo no e quindi aspetta ah prova a farti voi il punto dopo te li do il joystick ok silenzio insegnami ma le maniche sono lava i bollenti senza fare niente tutto automatico dai che si deve girare ma vedi che è fatta male la gara non deve no ma non deve andare così però allora se io provo a fare una cosa tipo mi vado qua sopra faccio tutta la rincorsa non lo so ora sto giocando io comunque quindi abbiamo già concluso non ce l'abbiamo fatta di nuovo ragazzi mi sa che siamo molto negati a fare questa gara io sicuramente ma ce la stavi facendo stai guarda lo sguardo del delitto fai spaventare adesso quelli più piccoli no dico si spaventa dai dai incredibile dai vai dai ora è la volta buona forse ora è finita la gara allora ragazzi siamo negati per queste cose io tipo io gioco da tre anni a questo gioco e neanche dopo tre anni riesco a fare una gara ha vinto una donna ha vinto una donna che è una non lo so una rapper con la bandana la terrorista siamo negati assolutamente se questo video vi è piaciuto arriviamo a 500 mica dove veramente dovete spolliciare tutti se lo dici tu lo fanno se lo dico io non lo fanno fatelo se no si incazza e non viene più a fare video se volete altri video con lei dobbiamo superare i 500 mi piace per forza non entro un tempo quando li superiamo e metterò l'altro video niente per questo video è tutto grazie per i 20.000 iscritti ancora grazie a serena per aver fallito in continuazione per la partecipazione e se volete seguirla su instagram mi lascerò sullo schermo il suo id di instagram nickname anche in descrizione per questo video è tutto noi ci becchiamo al prossimo video ciao ciao ciao